Prendi anche un po' di fiori, perché lì è tutta la moglie che fa. Ecco, questo che stiamo filmando è l'orto di Annivale. Annivale, ci dici in una parola, in un aggettivo, qual è la tua esperienza di orti? Allora, la nostra esperienza è che siamo andati in pensione, non sapevamo niente, a un certo punto, leggendo un po' di libri e via via, abbiamo imparato a mettere giù un po' di roba e adesso è 15 anni che si va avanti e insomma si raccoglie, ecco. Va bene, grazie. Prego.